Signori, il discorso che sto per pronunziare dinanzi a voi forse non potrà essere a rigor di termini classificato come un discorso parlamentare. E il numero è così, basta. Grazie a tutti. Il movimento di bandini e di fredoni si scena la questione morale e noi conosciamo la storia delle questioni morali in Italia, 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 Italia. Se le frasi più o meno storchiate bastano per ridicare l'uomo, fuori il palo e fuori la torta. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Il movimento di bandini e di fredoni. I'm not sure we've absorbed the full impact, the full import of what happened, but communism died this year. Il movimento di bandini e di fredoni. 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 E già nelle elezioni del 1921 molti di coloro che attestarono i fatti davanti alla giunta delle elezioni furono chiamati alla sede fascista per un vero e proprio processo privato. E in seguito al processo fascista essi furono poi portati dal lavoro e percorsi e le formalità notarie furono impedite con la violenza. A Reggio Calabria abbiamo dovuto provvedere con nuove firme per soffrire a quelle che in Basilicata erano state impedite. L'Italia, oh signore, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. E noi questa calma laboriosa gliela daremo. Gliela daremo con l'amore, se è possibile. O con la forza, se è necessario. Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi, scrivete il discorso funebre per me.